Buonasera e benvenuti al Ciriaci per la seconda giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8. Si affrontano Strida Roma e Steaua 2005. Lo Strida Roma prova a uscire dalle posizioni difensive con Celso, buona la sua avanzata, poi il rimpallo che favorisce Bardella di una voce Celso, ottimo col tacco per Bardella che non perdona di fronte al portiere il vantaggio degli Orange, 1-0 per lo Strida Roma. La reazione dello Steaua 2005 è affidata a Antoi che la porta fino in fondo e c'è la deviazione sotto porta di Cerquez. Esultanza per lo Steaua 2005 che pareggia immediatamente la gara 1-1. Calcio di punizione per lo Strida Roma. Parte la conclusione col sinistro ribattuta, un nuovo tiro sporcato, poi il tacco e arriva Bon Giovanni sotto porta, bella deviazione d'esterno, gran coordinazione per il 2-1 dello Strida. Di nuovo Steaua, di nuovo in pressione, riesce qui ad andarsene, c'è fallo, anzi no, si continua per il vantaggio, tutti fermi, occhio al gran palleggio, fino in fondo e la rete straordinaria di Lungu che ci ha creduto fino all'ultimo, doppio sombrero, acrobazia di fronte al portiere, gran pareggio della Steaua. Anche nella ripresa attacca Nibola Grana, sull'esterno destro stavolta c'è la palla che viene fatta passare per Vilcu che prende il palo, occhio che da fuori arriva un compagno, è contrastato e l'azione si perde. Di nuovo Steaua, sempre centralmente stavolta c'è Vilcu solo, viene servito lo stop di Vilcu che riesce a fulminare il portiere, l'ex football hit Roma Nord porta in vantaggio i suoi 3-2 Steaua. Strida Roma che attacca ma si espone al contropiede dello Steaua che qui addirittura è 3-1, Vilcu avanza, c'è il passaggio per Gheana, palla di ritorno, miracolo del portiere, la palla rimane lì, torna Vilcu sulla sfera. La doppietta personale di Vilcu, anche Gheana nell'azione, è il 4-2. Strida Roma con orgoglio, vuole comunque attaccare per accorciare le distanze e va fino in fondo, poi arriva Bardella, la traversa incredibile di Bardella. Tutto in verticale, lo Strida palla a Caracciolo che si gira e la metta alle spalle del portiere, è il 3-4, manca pochissimo alla fine ma lo Strida si rifa sotto con Caracciolo. Rinvio del portiere ma finisce qui, triplice fischio del direttore di gara, lo Steaua 2005 batte 4-3, lo Strida Roma grandoppietta del trascinatore Vilcu. Gioran già hanno provato a riaprirla nel finale, ma forse era troppo tardi. Nel primo tempo, i primi 10-15 minuti, siamo stati un po' confusi, anche perché la mancanza di Storocan, che è il nostro playmaker, si è sentita. Ma poi ci abbiamo messo più grinta, più determinazione e alla fine ci siamo portati a casa il risultato. Lo Steaua ha sempre puntato in alto e ovviamente stiamo puntando i play-off e anche la promozione in Serie A.